Industria e ambiente sono le due parole chiave al centro della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, che sarà ospitata a Taranto nei giorni 9, 10 e 11 luglio. Si affronteranno temi caldi collegati alla grande industria e al rispetto dell'ambiente, tra questi la tutela della salute, la riqualificazione delle aree exproduttive, la rigenerazione urbana in ambito di centri storici, le aree produttive, militari e portuali, alla presenza di esponenti di rilievo nazionale, del mondo della politica, dell'economia, dell'ambientalismo, dell'architettura e dell'urbanistica. Il nostro Consiglio Nazionale, quindi tutta la nostra categoria professionale, prende in carico ufficialmente da questo momento il problema Taranto. La questione Taranto, quindi la questione legata al rapporto tra la città e la produzione e il suo rapporto chiaramente tra industria, ambiente e salute. Noi cercheremo in queste giornate, il 9, il 10 e l'11 di luglio, cercheremo di affrontare con tutti gli attori che sono coinvolti in questi temi, in questi argomenti, quindi il mondo della politica, il mondo dell'industria, il mondo dell'ambientalismo, chi si occupa di salute, chi si occupa di ambiente in senso più ampio e di urbanistica chiaramente, cercheremo di affrontare il tema del come cambia il rapporto tra la città e la produzione, avendo Taranto come punto di riferimento, come sfondo, ma parlando chiaramente anche di altre tematiche che sono tematiche nazionali, quindi Taranto come riferimento, ma oltre Taranto ci sono chiaramente altre realtà che vivono da molto tempo anche le nostre problematiche, ovviamente con livelli differenti e scale differenti di intervento. In programma anche un'altra iniziativa, la Festa degli Architetti, che si terrà nei giorni 6, 7 e 8 luglio, che prevede dibattiti sulle tematiche legate alla città industriale nell'ambito del giornalismo, del cinema e della fotografia. La Festa dell'Architetto è un'iniziativa che noi ripetiamo questa volta per la terza edizione, la porteremo in città vecchia, così come in città vecchia si svolgeranno anche le iniziative legate alla Conferenza Nazionale degli Ordini. Per la Festa dell'Architetto saremo a Palazzo Ulmo, all'interno della Corte di Palazzo Ulmo, che è un bellissimo edificio nel centro storico, in fase di restauro e anche molto interessante, che ospiterà tre serate, sempre con il tema che è il filo conduttore del ragionamento che noi faremo tutta questa settimana, che è appunto sempre il rapporto tra città e produzione. Faremo un incontro a più voci durante la sera dell'inaugurazione del 6 con alcuni scrittori, i giovani scrittori che negli ultimi due o tre anni hanno scritto tanto sul tema del rapporto tra Taranto e l'Industria. Il 7 ci occuperemo invece di proiettare una serie di film alla presenza di registi, sempre sul tema Taranto e l'Industria. Il giorno 8 invece è una serata specifica sulla fotografia, in cui presenteremo i risultati del concorso fotografico nazionale che abbiamo bandito, sempre sul tema Taranto e la fotografia e Taranto e l'Industria. e presenteremo una serie di mostre fotografiche che sono in corso di visione in città.